Giovanni vorrebbe diversificare l'investimento per ridurre il rischio tuttavia non sa come fare perché i suoi risparmi sono limitati. Vorrei investire in un portafoglio di più titoli per ridurre il rischio però i miei risparmi non sono poi molti come posso fare? Giovanni il tuo è un problema comune a molti è difficile farlo in quanto esiste un quantitativo minimo per l'acquisto dei titoli che può essere anche elevato. Inoltre le commissioni per ogni operazione sui mercati sono significative ciò impedisce una diversificazione ottimale. Come posso regolarmi dunque? Puoi orientarti verso i fondi comuni di investimento sono una sorta di grande salvadanaio collettivo amministrato da una società di gestione del risparmio abbreviata in SGR che colleziona non solo i tuoi risparmi ma anche quelli di molti altri e li investi in azioni o obbligazioni. Tramite i fondi quindi i risparmi dei singoli confluiscono in un patrimonio di grandi dimensioni. Questo consente di realizzare una diversificazione degli investimenti difficilmente ottenibile direttamente dai singoli investitori. Capisco mi sembra una buona soluzione dimmi qualcosa di più. I fondi sono suddivisi in tante parti unitarie, dette quote. Investi in un fondo acquistando una o più quote. Ogni quota ha un valore, detto Net Asset Value, abbreviato in NAV, che riflette il valore di mercato dei titoli presenti nel portafoglio del fondo. Il NAV è calcolato ogni giorno in base ai valori di chiusura dei mercati dei titoli. Puoi comprare quote di un fondo da una banca o da un promotore finanziario, oppure via internet. L'acquisto via internet è una soluzione interessante perché i costi sono più bassi. Che rischi corro investendo in fondi? Corro i rischi connessi all'andamento dei titoli che stanno nel portafoglio del fondo. I fondi azionari, ad esempio, sono composti prevalentemente da azioni. Il rischio è rappresentato dalle oscillazioni, talvolta frequenti e consistenti, dei titoli. Quando acquisti un fondo obbligazionario, cioè che investe prevalentemente in obbligazioni, dovrai fronteggiare principalmente il rischio tasso. Se i tassi di interesse di mercato salgono, allora i prezzi delle obbligazioni scendono. Il rischio di default, invece, è ridotto in quanto i fondi sono tenuti dalla normativa a non investire più del 10% in titoli di un singolo emittente. Come ti dicevo prima, a differenza di un investimento diretto in titoli, i fondi comuni permettono una maggiore differenziazione del tuo investimento e, dunque, una riduzione del rischio. Hai parlato di fondi che investono in obbligazioni e azioni. Quali sono le differenze? Le categorie di fondi sono molteplici. I fondi azionari possono investire in azioni di tutto il mondo, nel caso dei fondi azionari internazionali, o solo di alcune aree geografiche. Ad esempio, i fondi azionari Italia investono principalmente su titoli della borsa italiana, mentre i fondi azionari aree euro investono solo nelle borse dell'eurozona. Altri fondi investono principalmente nei mercati degli Stati Uniti oppure dei paesi asiatici o emergenti. Ci sono poi i fondi azionari settoriali, che investono in azioni di alcuni settori dell'economia, come quello farmaceutico o energetico. Accanto ai fondi azionari hai poi quelli obbligazionari, che investono principalmente in titoli di Stato e in obbligazioni. Sono raggruppati in base alla voluta dei titoli in portafoglio e alla scadenza delle obbligazioni contenute. Ad esempio, puoi trovare i fondi obbligazionari dei paesi dell'area euro a medio o lungo termine o i fondi monetari che investono in obbligazioni a breve termine. I fondi obbligazionari possono essere poi distinti a seconda degli emittenti, Stati o società, eppure in base al loro rating. Una terza categoria è rappresentata dei fondi bilanciati, che investono sia in azioni che in obbligazioni. Si distinguono in bilanciati azionari, bilanciati obbligazionari e bilanciati veri e propri, in base alla percentuale di azioni e obbligazioni presenti nel portafoglio. Infine ci sono i fondi flessibili, la cui politica di investimento varia in relazione all'andamento dei mercati finanziari. Tra questi trovi i fondi total return, che hanno l'obiettivo di generare un rendimento costante indipendente dall'andamento dei mercati. Ma come mi posso orientare in questa giungla? Per individuare i fondi più adatti ai tuoi obiettivi di investimento è necessario conoscere le caratteristiche, le strategie di investimento, il livello di rischio e i costi. Il principale strumento a disposizione dell'investitore è il prospetto informativo, che deve essere consegnato obbligatoriamente al risparmiatore prima dell'acquisto. Oppure puoi consultare un documento più sintetico, anch'esso obbligatorio, chiamato KID, Key Investor Information Document, che contiene solo un'informazione chiave per gli investitori. Per ciascun fondo trovi entrambi i documenti anche su internet. Potresti dirmi con precisione che informazioni contengono? In questi documenti trovi due informazioni cruciali, il benchmark del fondo e la sua performance storica. Il benchmark ti fornisce una descrizione della tipologia di titoli su cui il fondo è investito e quindi dei rischi a cui sei esposto offrendo un portafoglio di riferimento del fondo. Prendiamo ad esempio un fondo azionario America e supponiamo che il suo benchmark sia così composto. 95% MSC USA in euro, 5% Berkley's Euro Treasury Bills. Questa composizione ti mostra che l'obiettivo di performance di questo fondo è quello di raggiungere un rendimento pari al 95% di quello della borsa di New York e al 5% di quello dei titoli di Stato a breve. Cosa significano queste sigle? Sono due indici finanziari. La prima sigla MSC sta per Morgan Stanley Capital International e rappresenta un tipico indice azionario costruito da una grande società americana che fotografa l'andamento della borsa americana. Da questo indice sappiamo che il fondo investe principalmente sulla piazza di New York. Invece il Berkley's Euro Treasury Bills è un indice che segnala la presenza di obbligazioni a breve termine in euro nell'investimento del fondo. Queste obbligazioni consentono al fondo di avere denaro investito senza rischi e smobilizzabile rapidamente con costi minimi, così da poter far fronte a necessità impreviste, quale ad esempio il riscatto delle quote. Tutti i fondi, ad esclusione di quelli flessibili, hanno un benchmark. Nei casi in cui un fondo non abbia un benchmark devi fare molta attenzione in quanto è difficile capire che cosa sta investendo. Calcolando il rendimento di un benchmark puoi avere un buon riferimento per valutare la performance del fondo. Continuiamo nel nostro esempio. Supponiamo che gli indici abbiano avuto le seguenti performance nell'ultimo anno. Più 30% per l'indice MSC USA in euro e più 1% per l'indice Berkley's Euro Treasury. Sommando le performance degli indici, secondo le percentuali assegnate dal benchmark, 95 e 5% rispettivamente, ottieni la performance del benchmark del fondo nell'ultimo anno, più 28.55%. Questo è un indicatore della performance che può essere preso a riferimento per valutare quella del fondo. La performance passata del fondo e quella del benchmark sono presentate nel KID. Grazie, lo terrò a mente. Grazie, lo terrò a mente.